Buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Manuela Corsi. Partiamo ai quotidiani nazionali. Sì, partiamo dal Corriere della Sera di oggi e da questo nuovo scontro tra governo e Unione europea. La Premier, curioso, stallo sul caso Ita. Poi Salvini, Le Pen a Pontida, ha invitato la Le Pen, Gelo di Tajani, Bruxelles, non c'è stato notificato nulla a proposito di Ita. La sorpresa di Gentiloni è il timore per attacchi controproducenti. Questo è un po' quello che riguarda il nostro governo, anche degli attriti pare all'interno della maggioranza. Poi vediamo di spalla nei villaggi distrutti sui monti del Marocco non c'è più nulla. la strage, i soccorsi. Impressionante, è rimasto solo quel campanile lì, quelle quattro cattapecchie. Ci sono tante altre immagini proprio della distruzione. Vediamo a centropagine invece questa notizia, la corsa, lo schianto, i quattro amici morti in auto. Avevano tra i 19 e i 24 anni. La vettura si è ribaltata, ma in auto erano in sei. Correva troppo all'alba la piccola Ford Fiesta. Leggiamo con i sei amici stretti uno all'altro. Tornavano dalla discoteca a Cagliari. All'improvviso la sbandata, il cordolo, un boato. Sono morti in quattro e due sono feriti gravi. L'ennesima tragedia del fine settimana. C'è anche una notizia che riguarda il ritorno a scuola. Scuola, vaccini, mascherine, tutte le regole per il Covid. Il ritorno in classe è contrassegnato da questo aumento dei contagi. Alcuni presidi hanno messo a disposizione anche delle mascherine per chi le vorrà. Invece andiamo all'interno del Corriere della Sera e vediamo in primo piano cosa sta succedendo in Marocco. Tra i sopravvissuti dimenticati dai soccorsi non c'è più nulla. Guarda alcune immagini, Michele, di questa devastazione. Qui c'è questa foto che è molto drammatica. Un bambino che viene tratto in salvo fortunatamente da un uomo, dalle macerie. E poi qui la disperazione chiaramente delle donne e i soccorritori in fondo che cercano di trarre in salvo ancora vittime. Nei villaggi crollati sui monti attorno a Marrakesh ci sono oltre 2000 vittime. Quando arriva la scavatrice chiede qualcuno. E poi i leoni della nazionale. Il Marocco che era arrivato terzo ai mondiali. Lo shock e la partita rinviata. Adesso i giocatori hanno offerto il loro sangue. Quindi doniamo il sangue. Ma in città ieri si è giocata Gambia-Congo. Ancora pagina 3. Tre giorni di lutto. Ma il Marocco si chiude e rifiuta quasi tutti gli aiuti del mondo. Questo per quanto riguarda la gestione dell'emergenza. Qui invece c'è una foto con i turisti in fila. I terminal che lasciano il paese per rientrare a casa. Ieri sono rientrati tra l'altro tutti e 400 gli italiani che erano lì. Questa invece è la cartina, la mappa del sisma. In rosso vediamo l'epicentro dove è avvenuto il punto dove si è registrata la scossa di magnitudo. Cambiamo totalmente argomento. Ti faccio vedere invece questa notizia. L'ennesima bravata social che si è trasformata in una tragedia. Guida in diretta Facebook e travolge un'altra auto. Grave una bambina. Succede ad Alatri il frontale con una mamma che era con i suoi due figli. Fortunatamente non ci sono morti ma ci ricorda quello che era avvenuto pochi mesi fa. Stessa cosa con la morte di un bambino. La Repubblica di oggi. L'apertura invece è dedicata alla scuola. La scuola dei precari perché oggi partono le lezioni. Vediamo. Inizia ad ostacoli per 7 milioni di studenti in classe. Su 4 insegnanti, 1 e 1 supplente. Ancora da bandire concorsi per 70 mila posti. Manovra poi dagli extra profitti delle banche. Solo un miliardo. I partiti di maggioranza divisi sul bonus benzina. Altre notizie. Troveremo le risorse. E ancora leggiamo sotto. Lashline all'attacco. Autunno militante per sanità, reddito e casa. Questo per quanto riguarda poi la manovra finanziaria. Tra poco vedremo questo focus sulla scuola. Intanto vediamo le altre notizie in prima pagina. Ita, scontro Meloni-Bruxelles. Il MEF è costretto a precisare. Questo per quanto riguarda gli attacchi a Gentiloni. E poi la sciaria del terremoto. In questa fotonotizia niente tende alle donne sole. Le sfollate le vediamo ritratte che lasciano le case distrutte a 60 chilometri da Marrakesh. Andiamo all'interno di Repubblica. E quindi vediamo l'apertura dedicata alla scuola precaria. Ci sono alcuni numeri. Eccoli qua. Quelli per il nuovo anno scolastico. 2023-2024 le cattedre vacanti a inizio anno sono 81 mila. Le assunzioni autorizzate 50 mila. Restano 40 mila posti vacanti. E poi le regioni con i più precari in questa cartina sono nel nord Italia. 49 mila in Lombardia. 27 mila in Piemonte. 23 mila in Veneto. Questa è la situazione, la fabbrica dei supplenti. L'inizio ostacoli delle lezioni. La scuola alla ripartenza con, dicevamo, 200 mila precari. A perderci naturalmente sono i ragazzi. E poi ci sono delle storie di alcuni docenti. La prof è migrata dal sud a Brescia per un posto fisso. Ma dello stipendio mi resterà poco. E poi il maestro per caso, basta partita IVA, farò l'insegnante, anche se non sono esperto di bambini. Parla un architetto di Bologna. Nell'Atlante, vediamo appunto il reportage di Repubblica. Nell'Atlante, ferito dal sisma, niente tende alle donne e muli come ambulanze. Succede questo. Viaggio sulle montagne, epicentro del terremoto, dove in questo momento mancano i soccorsi e si scava a mani nude, dicevamo. E ancora, i turisti tra le macerie e nei suc di Marrakesh, non si può chiudere. Qua altre immagini della devastazione. È rimasto veramente poco di queste città. Gli aiuti arrivano a fatica, ma il re li ha accettati soltanto da quattro paesi. Oggi dovrebbero partire gli aiuti italiani, invece. La strage dei ragazzi. Di ritorno dalla festa, il dato che mi interessava fare vedere è questo. 434 le vittime nei weekend estivi. Queste sono le morti di questa estate. L'ultima tragedia, abbiamo detto, a Cagliari. Questi quattro giovani che appunto hanno perso la vita dopo che l'auto si è ribaltata. Cambiamo quotidiano. La prima pagina della stampa. Meloni contro l'Unione Europea. Anche qui è la Schlein in piazza per la festa dell'Unità a Ravenna. La Premier attacca su Ita e dice ci frenano. Dura la replica di Bruxelles. Lo russo è un governo cattivo. La segretaria PD invece mobilitazione in difesa di sanità e salari. Zangrillo c'è ancora bisogno di Forza Italia. Gioventù spezzata in questa fotonotizia. I quattro giovani morti sulle strade. Vediamo altre notizie. Zero vacanze italiane nell'estate dei rincari. Ma la Sant'Anché nega il flop e dice i turisti trainano il PIL. E poi la scuola al via gli insegnanti sono la luce. Il messaggero. Vediamo Ita e Unione Europea. I dubbi di Meloni. Il Premier è curioso che la Commissione blocchi la soluzione al nostro problema. A fondo anche sulla BEI. Franco profilo ideale. No a logiche di spartizione politica. Nel taglio alto i pensionati part-time per formare invece i neoassunti. Spunta un piano per non disperdere le professionalità. Verso il voto verso le europee. Le Pen ha puntida la sfida di Salvini. E Tajani che dice noi di Forza Italia siamo diversi. Dati l'Inps 100.000 lavoratori in nero hanno percepito anche il rinforzo. Il reddito. La stima. Irregolarità per il 20% della platea. Si torna a parlare appunto del sussidio più discusso degli ultimi anni. Marocco. 2.000 morti. Corsa contro il tempo per salvare i dispersi. I testimoni. Parlano di interi villaggi scomparsi. Paura per gli italiani. Bloccati invece sui monti. Andiamo ancora. Io non so quanto abbiamo ancora a disposizione. Un minuto. Un minuto. E allora ti faccio vedere il tempo di oggi. La Meloni dura contro l'Unione Europea e Gentiloni. Dopo la chiusura del G20 a Nuova Delhi. Dall'India il Premier denuncia. C'è un curioso stallo su Ita. Il commissario sapeva. Da anni ci chiedono una soluzione. Ora la bloccano. Vorremmo delle risposte. Per l'accordo con Lufthansa serve il sì di Bruxelles. Giorgetti all'ok dei TEDx. Perfetto. Ci fermiamo qui per la segna stampa. Tra pochissimo il meteo. Vediamo che tempo c'è. E poi incontreremo niente meno che il meteo. Il medico che scopre i vulcani sottomarini. Una cosa straordinaria. State con noi. Buongiorno Sicilia. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico nella giornata di lunedì su tutto il nostro territorio. Al più qualche nuvola si farà vedere in serata su Alpi orientali con associati dei rovesci. Sulla Sicilia ancora giornata di piena estate. Avremo infatti sole prevalente ovunque in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Cielo sereno e terzo. Temperature massime diurne con valori compresi tra i 29 e i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Situazione medesima anche per quanto riguarda la giornata di martedì. Alta pressione dominante su tutto il territorio. Sarà quindi una giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente e con condizioni meteorologiche di tempo stabile. Anche questa volta cielo sereno con assenza di nuvole. Caldo sì ma sarà un caldo sopportabile. Valori massimi fino ai 31 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Allora ecco noi in collegamento Mimmo Macaluso che è un sommozzatore, rianimatore, medico, ispettore dei beni culturali e quant'altro. Lei è tutto dottore ma complimenti. Buongiorno. Quali sono i suoi incarichi? Ci diciamo una decina di incarichi soltanto, i primi dieci. Beh insomma tutto nasce da una passione del ragazzo, soprattutto l'attrazione verso il mare e quello che contiene sia in termini di beni culturali che in termini di beni archeologici e geologici. Geologici appunto parlando di vulcani, insomma da vent'anni praticamente abbiamo aperto la strada con le prime timide ricerche che ho coordinato dal punto di vista sul bacchio per l'ordine dei geologi e per l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia nello stretto di Sicilia dove nel 1831 era nata un'isola. Allora lei recentemente dottore ha scoperto non uno ma tre vulcani sommersi, ma dove sono? Allora, no, i vulcani sommersi, questi ultimi sono stati, è stata una ricerca fatta all'Istituto Nazionale di Oceanografia e Sperimentale di Trieste, ma nel 2006 abbiamo trovato ben sette vulcani che fino a quel momento erano sconosciuti, diciamo fra Pantelleria e le coste sud occidente della Sicilia, quindi Sciacca, Agrigento, in questo tratto di mare. Bene, poi cos'altro ha fatto? Abbiamo cominciato a fare queste immersioni, prima sui resti di Ferdinandia per prelevare delle rocce che dovevano essere studiate dai petrografi di Palermo, e poi abbiamo fatto dei rilievi sull'acqua, sull'otto appunto di Tancche, documentarli fotograficamente e in video perché c'erano poche immagini dei resti di questo straordinario vulcano che era stato tra l'altro oggetto di contenzioso tra diverse nazioni nel 1831, quasi a sfociare alla guerra in mezzo al mare insomma. Poi l'isola si è disgregata e scomparse e tutto è finito lì. Però insomma abbiamo cominciato con queste ricerche sottomarine, grossomodo nel 1998, ecco. Ma è vero che c'è un cratere che ha il suo nome? Allora, la cosa simpatica è stata che abbiamo trovato una formula bellissima che ha coinvolto voi, i mezzi, voi avete avuto un ruolo straordinario in questa ricerca. Il fatto è che si è parlato molto sui giornali, sulle televisioni di questi vulcani sottomarini, ha portato una società di produzione televisiva a realizzare un bellissimo documentario premiato, molto premiato, tra l'altro è una delle prime produzioni italiane vendute a National Geographic e durante questa ricerca vulcanologica abbiamo trovato un piccolo cratere isolato nel cosiddetto banco terribile che raggiungeva i 30 sistemi che era la superficie e quindi ho fatto un'immersione, sono stato il primo ad effettuare un'immersione in questo cratere fino a quel momento sconciuto e l'ufficiale di Rotta l'ha battezzato con la sigla del mio cognome e l'anno della scoperta, adesso si chiama MAC-06. Benissimo, è vero che ha scoperto anche i religi della Seconda Guerra Mondiale? Abbiamo un tratto di mare che è straordinario anche come testimonianze storiche soprattutto della Seconda Guerra Mondiale, in questo tratto di mare si sono combattute delle violentissime furiose battaglie fra italiani e tedeschi, erano alleati, e poi contro gli americani e gli inglesi. Noi avevamo due grossi campi di aviazione in Sicilia, uno era quello di Schacher e l'altro di Castelvetrano. E proprio grazie a tutti questi combattimenti furiosi ho rinvenuto uno dei caccia più belli della Seconda Guerra Mondiale, il più bello italiano, era un MAC-202. La cosa curiosa è che probabilmente era quello appartenuto al capitano Aldogon, colui che, ecco queste sono le immagini del MAC-202, bellissimo, ma la cosa straordinaria è che chi pilotava quell'aereo ferito gravemente, fu decorato, raggiunse i vestiti più alti dell'aeronautica e diventò il generale di squadra aerea che nel 1961 ha fondato la pattuglia climatica nazionale, le frecce tricolori. A tutti gli appassionati di immersione, ma che ancora a malapena se ne cavano, ci sono quelli come me con la maschera e il boccaglio, che suggerimenti dà? Le raccomandazioni sono quelle di rispettare i dettami della sicurezza, qui parlo da medico, non bisogna avventurarsi se non dopo un training molto serio, scendere sempre in coppia, pianificare l'immersione, non superare quella che si chiama curva di sicurezza e poi, secondo luogo, avere un grande rispetto per le testimonianze storiche che giacciono nei mari. Dall'Armatti 202 stavano trafugando l'elica per portarla, non so dove, che fine avrebbe fatto. Adesso invece è stata recuperata e è nell'azio del Comune di Rivera ed è l'unico monumento ai piloti italiani morti nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo vale per i relitti recenti, ma soprattutto per i relitti archeologici, quindi per le testimonianze archeologiche. Quindi massimo rispetto, anche cautela nei reperti della Seconda Guerra Mondiale perché spesso trasportavano delle armi, due anni fa abbiamo trovato, abbiamo rinvenuto la mina antinave più grande costruita nella Seconda Guerra Mondiale, pesava 300 kg e conteneva ancora tritolo al loro interno. Quindi quando si rinviene un reperto della Seconda Guerra Mondiale bisogna fare immediatamente la segnalazione alla guerra costiera. Questo è sempre il Marchio 202 che è un relitto bellissimo. Ma perché è facile imbattersi in relitti di guerra? Come? È facile, dico, imbattersi in relitti di guerra addirittura. È molto facile perché, guardi, in un tratto di mare di soltanto 500 o meno di un miglio, ho rinvenuto uno Junker 88, i resti di un B24 e il Machi 202. Adesso da poco i geologi stavano effettuando una ricerca in questo tratto di mare di tipo geologico e hanno rinvenuto un'enorme relitto aeronautico che sarà oggetto di studi. Quindi è molto facile, è molto facile imbattersi anche in ordigni della Seconda Guerra Mondiale, quindi a maggior ragione, massima attenzione quando si rinviene qualcosa che non si identifica bene e bisogna non toccarlo, se soprattutto è diventarlo, è avvertire la guardia costiera. Dottor Magaruso, ma se qualcuno volesse seguire il suo esempio, che deve fare? C'è una scuola, c'è un indirizzo? Noi abbiamo, beh, in Sicilia ci sono diversi diving. Abbiamo un diving a sciacca e io stesso tra l'altro abbiamo un diving dove prepariamo i ragazzi già a 12 anni ad effettuare le immersioni e questo si fa acquisendo l'acquaticità in piscina e poi portiamo progressivamente i ragazzi a fare le immersioni in mare, gradualmente fino a prendere lente di mestichezza con il mare e effettuare queste immersioni in sicurezza. Quindi esistono i diving. Quali sono i luoghi dove ci suggerisce di immergerci così, diciamo, con più sicurezza, con maggiore facilità, soprattutto per chi è agli inizi? Allora, noi abbiamo degli ambienti marini, abbassano, abbiamo una peculiarità. Noi riusciamo ad avere a circa 10 metri di profondità, in questo tratto di mare che è antitipante la Sicilia sud-occidentale, in cui già 10 metri si possono osservare dei banchi non solo di posidoni oceani che sono meravigliosi. Quello che stiamo vedendo adesso è il B-24 Liberator, uno dei bombardieri più grossi della seconda guerra mondiale. E stavo dicendo, a parte questo, noi abbiamo anche dei fondali dove possiamo trovare la Gorgoglio, che è una pianta straordinaria, apparentemente una pianta ma appartiene più di altro al corallo. E ci sono degli ambienti sottomerimi che sono veramente unici, straordinari, non bisogna effettuare immersioni profonde perché già a bassa profondità potremmo vedere tutto questo. Per concludere, dottore, quali sono i suoi prossimi obiettivi? Che vulcani vuole scoprire adesso? Allora, proprio con l'Istituto di Oceanografia Sperimentale dovremmo essere i primi ad effettuare delle immersioni nei nuovi vulcani. Queste immersioni serviranno a creare basalto e loro studieranno questo basalto, quindi riusciranno a capire la storia di questi vulcani, soprattutto quando sono emersi. E questo è molto importante perché probabilmente proprio il vulcanetto che ha preso il mio nome, il Mach 06, quando è venuta la sua eruzione, probabilmente non c'era il mare, quindi era su terraferma, era un vulcano subaereo e questo è quello che dimostrerebbe quei famosi ponti di terra che collegavano la Sicilia a Malta, la Sicilia a Nord Africa. Quindi sarebbe una scoperta straordinaria anche sotto questo punto. di vista. Quindi la prossima operazione che faremo è l'esplorazione di questi tre nuovi vulcani scoperti dai vulcanologi di Trieste. Bene, ci faccio sapere allora. Grazie Dottor Macaluso e complimenti, grazie per essere stato con noi. Facciamo una breve pausa e tra poco parleremo di corti in cortile. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite Davide Catalano, direttore artistico di Corti in cortile Cinema in Breve, che è una manifestazione che a Catania è molto conosciuta perché ritorna. Che edizione siamo? Siamo alla quindicesima edizione. Caspiterina, complimenti. Comincia venerdì, vero? Sì, venerdì 15, iniziamo fino a domenica. Al Palazzo della Cultura di Catania. Chi saranno i protagonisti di questo festival internazionale del corto Cinema in Breve? Ma in realtà i protagonisti sono diversi. Sia i registi che vengono a presentare le proprie opere in concorso. Saranno protagonisti i produttori, i distributori che avranno la possibilità di confrontarsi con vari consulenti e con le film commission. E anche, devo dire, i protagonisti saranno anche il pubblico perché noi ogni anno coinvolgiamo il pubblico del festival che è fondamentale e ogni anno abbiamo una massima partecipazione. Sostanzialmente daremo una cartolina avranno la possibilità di votare il proprio cortometraggio. Ah, quindi la giuria e il pubblico? Sì, abbiamo una giuria chiaramente di qualità e anche una giuria cosiddetta popolare. Ma ci sono partecipanti di tutto il mondo? C'è anche l'Ucraina, vero? Esattamente. Abbiamo un'opera proveniente dall'Ucraina, dall'USA, dal Messico, dal Brasile. Insomma, è un festival internazionale. Sono 22 le opere in concorso finaliste su 215 pervenute tramite i distributori, tramite le piattaforme. Esattamente questo. E abbiamo detto, giuria, diciamo, chiamiamola tra virgolette popolare, cioè noi spettatori che veniamo lì e possiamo anche votare. Ma poi ci sono gli esperti, quelli sono importanti, no? Sì, gli esperti quest'anno sono, definisco, mirati perché ho voluto scendere e scegliere una giuria fatta da produttori. Abbiamo la Warside, la Notorious, quindi anche distribuzione, appunto perché il regista che proviene a Catania presenta la propria opera, che viene giudicata da tecnici come, insomma, dei professionisti, come, insomma, produttori o anche dei giornalisti. Noi abbiamo in giuria un giornalista, abbiamo il direttore dell'Accademia delle Belle Arti. Sì, è importante. La giuria di qualità, considerate che, è bello questo, la giuria segue tutti i cortometraggi. Nel momento in cui devono decidere c'è la guerra, perché ognuno deve dire qualcosa. Mi ricordo l'anno scorso la riunione è durata qualche quattro ore. Abbiamo dovuto il rivedere. Una guerra, in questo caso, diciamo, pacifica. Guerra pacifica, si intende? Voglio dire una domanda un po' da non addetto ai lavori. Che tipo di realtà viene fuori da questi corti? Se si può trovare un filo conduttore? Ammesso che si possa. È più fantasia, più realtà, più attualità, più passato? Allora, le tematiche sono diverse, però il regista, si siamo accorti che il regista del cortometraggio rappresenta quello che, insomma, rappresenta molto, vuole rappresentare la realtà in cui viviamo in quel periodo storico. Sono molte le opere che parlano di attualità. e sì, in corto fondamentalmente, che arriva al festival tendenzialmente, toccando diverse tematiche, ma vuole rappresentare il contesto sociale in cui stiamo vivendo adesso. Ma questo è interessante. E chi sono gli autori? Sono gente che fa anche cinema, poi, tradizionale, oppure proprio gente che si specializza nei corti, giovani o gente di mestiere? Allora, devo dire che chi fa il cortometraggio sogna prima o poi di fare il lungometraggio. Si dice che il cortometraggio è la palestra per realizzare un lungometraggio. Alcuni sono dei professionisti, hanno studiato, alcuni sono aiuti registe che poi vanno il passaggio dal regista per appunto documentario, prevalentemente sono dei professionisti. Noi chiaramente al festival abbiamo un'area con alcune proiezioni pomeridiane, dove diamo la possibilità ai giovani, insomma, mettendogli a disposizione uno schermo, un tecnico e proiettare la propria opera. Ah, possono anche debuttare lì? Ma che bello! Sì, è uno spazio che abbiamo denominato, chiamato Showy Space, che si svolge in un'area di Franco Tomaselli. Franco Tomaselli era un dipendente del comune di Catania, dell'assessorato, che per 15 anni è sempre stato gentilissimo, ha collaborato per i festival e noi non dimentichiamo. Beh, ci sono i neofiti e poi ci sono anche i premi Oscar, è vero? C'è un premio Oscar? Non so, ci sono altre opere veramente. Allora, Corti in Cortile è famoso anche per il suo pubblico. Noi abbiamo un pubblico cosiddetto teatrale, perché sa che viene a Corti in Cortile e vede delle opere. Una selezione di opere incredibili e devo dire che quest'anno l'ho definita una delle migliori selezioni. Perché teatrale? Perché è più colto? Sì, più addestrato. Ma poi hai dato un premio speciale anche alla carriera, un mito catanese italiano come Tuccio Musumeci? Sì, quest'anno noi abbiamo l'onore, abbiamo l'onore di dare un premio speciale a Tuccio Musumeci. Il comitato organizzativo nel momento in cui dovevamo scegliere a chi dare il premio alla carriera, perché ogni anno noi diamo il premio alla carriera, devo dire che tutti abbiano fatto il nome di Tuccio Musumeci. Quindi ci sarà questo momento di forte emozione e quindi invito insomma a partecipare, a vedere un po'. E questo è un collegamento con teatrale, perché più teatrale di Musumeci non c'è nessuno. Sì, esattamente. E lui è anche un appassionato di cinema, come spettatore immagino, oltre ad essere un attore di diversi film, tantissimi. Proietteremo alcune immagini inedite, quindi non svelo, non voglio spoilerare, non sono pronto, però ecco ci sarà qualcosa di inedito. Faregli anche delle degustazioni che non guasta. Sì, chiaramente quest'anno uno dei nostri obiettivi è la conoscenza, l'unione, l'incontro. Io credo che il ruolo dei festival cinematografici, il mio dovere è mettere a confronto le varie professioni, anche singoli utenti che chiedono insomma delle informazioni. Abbiamo dei consulenti che spiegheranno ai semplici utenti, ai filmmaker, agli appassionati e anche ai professionisti alcune cose, per esempio le autorizzazioni all'uso del drone. Molta gente non sa che per fare volare un drone a centro città ci sono necessarie alcune autorizzazioni. Io non lo sapevo, che si deve fare? È una procedura, non è complessa, però è giusto farla. Con le autorità locali? Con le Enac e anche… Chi sono i più forti? Tornando ai corti, i più forti chi sono? Noi italiani o altri? Ultimamente devo dire che gli spagnoli stanno andando benissimo, lo vediamo con la qualità dell'opera pervenuta, gli italiani mantengono sempre il trend positivo. Devo dire che quest'anno il prodotto spagnolo sta andando forte rispetto agli altri. Vero? Sì, secondo me sì. Voi non temete la concorrenza delle serie tv messe dentro le piattaforme? Allora qui apriamo l'argomento cinema. Difficile. Sì, effettivamente è una situazione che bisogna un po' adeguare, il cinema italiano si deve un po' adeguare a tutto questo, devo dire che i dati negli ultimi mesi con le uscite di questi film sono molto incoraggianti, per cui sì, comunque dobbiamo un po' adeguarci e alla realtà è questo, insomma il cinema tradizionale è stato preso, no? Arranca un pochino diciamo. Arranca, arranca un po'. Ecco, ti ho fatto una domanda che non c'è niente, ma l'ha detto ai lavori, uno come lei non posso non fargliela. È d'accordo sull'idea che i personaggi italiani debbano essere interpretati da attori italiani e non tra stranieri. Sì, sì, d'accordo, sono d'accordo. Perché? In parte sì. Ma allora il brand Made in Italy è una cosa che difendo molto, credo tanto, chiaramente per bisogna adeguarsi con le scuole di settore, ho visto che Cinecittà negli ultimi due e tre anni ha tirato fuori, insomma, una scuola dei master appropriati. Quindi il cinema italiano, l'attore italiano che spesso va a fare formazione all'estero può benissimo, come dire, stare qui in Italia e fare il suo percorso professionale. Quindi dire sì in parte. E voi date un bellissimo contributo. Allora, corti in cortile, cinema in breve a Catania, da venerdì fino a domenica 17 al Palazzo della Cultura di Catania. Grazie, complimenti in bocca al lupo. Posso dire l'ultima cosa? Tutto quello che vuole. Allora, io voglio precisare che sono il direttore d'orchestra di un gruppo eccezionale. Ma che bello, anche, poniedrico. Sì, sì. Che gruppo è? Il mio gruppo è formato da ragazzi che principalmente amano il cinema, amano corti in cortile, amano la città di Catania. E questa edizione c'è una grande attenzione da parte del Comune, dall'assessore regionale al turismo, al direttore della Film Commission. C'è una grande attenzione delle istituzioni e questo incoraggia molto me e il mio staff a continuare e, infatti, col Film Market, insomma, stiamo vedendo tante cose. Le auguriamo anche noi e le facciamo ancora tanti complimenti. Davide Catanano, state con noi. Tra poco le compagne di lavoro e le amiche della povera Marisa. State con noi. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia. Buongiorno. Buongiorno Sicilia. Ricordiamo Marisa Leo insieme con due donne che si occupano anche loro di vino, come Marisa Leo che era manager di Colomba Bianca, c'è Valeria Lopez che è una giornalista e c'è Maria Grazia Barbagallo, sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier. Benvenute, so che conoscevate, eravate amiche di Marisa Leo. La povera Marisa oggi sarà sottoposta il suo corpo ad autopsia e gli investigatori ritengono che il femminicidio di questa vittima fosse preparato da tempo dagli investigatori e dall'assassino perché addirittura aveva assoldato un agente privato, un poliziotto privato, poi aveva preparato delle armi, c'erano due macchine, insomma, era una cosa ben organizzata. Ecco, quando è stata l'ultima volta che avete sentito Marisa? Marisa, io personalmente l'ho sentita di recente, fino a luglio-agosto abbiamo organizzato le iniziative come nostra consuetudine fare e lei era sempre proattiva, collaborativa. Ricordo una manifestazione a Menfi dove lei ha voluto mandarmi il vino della sua azienda perché sapeva che c'è una referenza che mi piace particolarmente. Non è riuscita ad essere con noi, però mi ha detto, guarda, ti mando il vino, sarà come se io fossi lì. E lei? Sì, io l'ho sentita a luglio anche perché organizzo delle manifestazioni in giro per la Sicilia, qui l'ho organizzata da Cireale e mi ha anche lei mandato il vino della sua azienda. Quindi avevamo sempre questi rapporti, rapporti tra professionali e anche rapporti amichevoli. Anche di amicizia, vero? Sì. Ecco, lei aveva un ruolo importante nella sua azienda e vi aveva mai parlato dalle sue vicende private anche accennandone del suo controverso rapporto con questa persona? Sicuramente sapevamo che non c'era una situazione serena, però nulla lasciava presagire qualcosa di così grave. Marisa è stata sempre una persona molto composta, riservata, mai timida, però sicuramente sapeva distinguere il privato dal professionale. Nel professionale dava sempre il massimo. Il sorriso che abbiamo visto nelle foto era una costante, una costante che c'era sempre, ma era un sorriso autentico. Perché lei in quel momento faceva lo switch e si dedicava 100% al lavoro che amava, come lo amiamo tutte noi che siamo legate da questa passione. Era sempre... Si, assolutamente, era una persona molto attiva, come diceva Solare, organizzava sempre delle feste tra amiche. Noi abbiamo una chat insieme, donne del vino, perché siamo socie delle donne del vino nella Sicilia, siamo circa 100 in Sicilia, ma ogni giorno c'era un bel messaggio. E Marisa partecipava? Assolutamente sì, sì, assolutamente, era sempre attiva. E che tipo di messa, scusi, la curiosità? Ma noi organizzavamo manifestazioni anche per beneficenza, anche per le donne vittime di violenza, organizzavamo tante cose in giro. Quindi avevamo una chat molto attiva, abbiamo una chat molto attiva, perché noi crediamo su questo progetto. Si chiama Calici per la vita e... Sì, posso aggiungere che il giorno stesso, che poi insomma l'indomani mattina purtroppo siamo stati svegliati con la notizia che non avremmo mai voluto sentire, quel giorno la nostra presidente regionale Roberta Urso mi telefonò per parlare appunto di progetti di questo tipo e mi disse guarda, adesso io chiudo perché chiamo Marisa che sta organizzando a Mazzara la prossima tappa che sarà ad ottobre. Mamma mia! Perché abbiamo questo progetto itinerante nelle città, c'è stato a Catania, ne sono venute a parlare qua, c'è stato a Borgoparrini, a Palermo, è una iniziativa che noi portiamo avanti perché crediamo in donne del vino, oltre a voler supportare l'equità del lavoro che fanno le donne, quindi raccontare quella piega femminile del lavoro, crediamo che ci sono tante donne che hanno bisogno di supporto, a tutti i livelli, supporto contro la violenza ma supporto anche per rafforzare ciò che sono, per cui creiamo queste iniziative in presenza, in vari locali dove parliamo di vino ma parliamo anche di valore professionale. E Marisa era attiva in questo. Sì, anche perché noi le cantine sono coinvolte, noi donne del vino siamo professioniste del vino, è un lavoro una volta prettamente maschile, una donna che si approccia al vino è molto difficile, così come un sommelier, ma anche le produttrici, le vignaiole, invece no, c'è un mondo assolutamente femminile al femminile, quindi noi spingiamo da questo punto di vista e cerchiamo anche di aiutare le donne, anche cercando lavoro, ecco, è la nostra un'attività no profit. Questo sul piano professionale, però Marisa era anche impegnata, avete già accennato in gran parte, per la difesa delle donne contro la violenza, contro la discriminazione, per la parità di genere, è vero? Sì, sì, stava proprio organizzando la prossima tappa nel suo territorio. E cosa vi diceva su questo? Dal punto di vista professionale era una risorsa sempre di supporto, buone notizie, era sempre positiva, esattamente come la vediamo nelle foto, quindi è incredibile che sia toccato a lei. E invece sull'impegno per le donne com'era? Molto, molto attiva, infatti quella mattina ci siamo svegliate come se fossimo state colpite tutte noi, tutte, tutte 84, siamo circa 84 della Sicilia, ma credo a livello nazionale, perché l'Associazione Donne del Vino, tutte ci hanno accolto, hanno allargato le braccia perché ci vogliono aiutare, ma non solo in Sicilia, sappiamo benissimo che dappertutto c'è questa realtà, ma noi siamo molto ferite, siamo intorno a Marisa, alla sua famiglia, alla sua figlia, Marisa è con noi e noi cerchiamo anche di portarla avanti. Questo è il nostro progetto da questo momento in poi, per tutte le donne, ma soprattutto anche per Marisa, perché era una di noi ed è una di noi. Avete intenzione quindi di proseguire ulteriormente anche sull'impegno per la difesa contro la violenza, contro le discriminazioni della donna? Sì, ancora più forte. Più che mai, più che mai, siamo fortemente. Ma proprio pensate a qualcosa in particolare, volete organizzare forse qualcosa? Beh sicuramente vogliamo unirci a tutte le iniziative che sono nate, stanno nascendo, proprio per sostenere la piccola Alice, non sarà sicuramente un percorso semplice, quello che dovrà affrontare questa bambina che noi conosciamo, che Marisa portava spesso nei nostri incontri. Noi per rispetto ne abbiamo parlato pochissimo, perché ha quattro anni, credo. Sì, esattamente, quindi vogliamo unirci proprio al supporto che verrà dato poi a questa piccola. E poi vogliamo anche tanto parlare di linguaggio corretto, di riconoscimento dei primi segnali di pericolo, di violenza. Marisa era una persona brillante, intelligente, accorta. Quindi questo ci fa pensare come il pericolo davvero non è facile da riconoscere. Ma è davvero così? Io qui vorrei fare, come dire, di fronte a una tragedia del gossip, ma perché ha ritirato la denuncia, la querela per stalking, per amore della figlia? E quindi non riconoscere i segnali che tante volte anche le forze di polizia suggeriscono alle donne, dice fatta attenzione a qualunque cosa, come può succedere? Ma penso fondamentalmente che Marisa era una persona buona, sincera. Credeva, credeva, si è illusa che magari il suo compagno potesse cambiare. E invece no, soprattutto per amore per una figlia. Noi siamo mamme, abbiamo delle figlie e spesso pensiamo anche a questo. Facciamo tante cose per amore dei nostri figli. Quindi supponiamo, ecco, perché poi davanti a questa tragedia tutti dicono tutto e noi non vogliamo assolutamente, vogliamo solo ricordare Marisa. Lei era una persona così come la vediamo, molto solare, magari chiusa, molte cose se li teneva perché il dolore sicuramente dentro ce l'aveva come tutte le donne ferite, non è l'unica. E quindi secondo noi lei si era illusa, ecco. Magari la sicurezza e la bontà, la gentilezza che le aveva dentro di sé pensava di poter cambiare una persona che non ha assolutamente, invece progettava esattamente il contrario. Vi occuperete della bambina? Chiaramente se ne occuperanno le istituzioni, nelle modalità e nelle formule che sono necessarie. Noi sicuramente ci saremo in tutti i modi possibili, con la nostra vicinanza, la famiglia. C'è il fratello soprattutto, la nostra è una rete molto presente, molto attiva. Tante di noi erano molto amiche anche perché erano nello stesso territorio. Noi ora siamo nella Sicilia orientale, ma tutte le ragazze della Sicilia occidentale, della sua comunità si sono strette intorno anche fisicamente a questa famiglia e siamo tutte colpite da questa tragedia perché ci sentiamo tutte Marisa. Per chiudere vorrei chiedervi che cosa si può fare per fermare queste catombe che continuano. Si parla, si parla, il brazzoletto rosso, la difesa, la cosa, e poi però siamo di nuovo sempre da capo. Io personalmente sento una grande responsabilità perché sono anche un insegnante di scuola superiore, quindi credo che bisogna agire moltissimo con i ragazzi, portare delle informazioni che partono proprio dalle parole, dal linguaggio, dalla modalità in cui ci interfacciamo e da là cominciare a fare un lavoro di consapevolezza. E poi credo che occorra un altro passaggio a livello proprio di normativa. Penso che occorrono norme più stringenti, molto più forti. Cosa ci vorrebbe? Beh sicuramente le istituzioni devono aiutare, devono assolutamente aiutare, cercare anche al primo avviso, al primo ecco, cercare di stringere ancora e sentire la vicinanza delle istituzioni. Spesso le donne denunciano, però poi ritirano perché non hanno la certezza di essere protette, sembrano sconfitte, quindi le istituzioni secondo me devono fare anche la loro parte. Sono più d'uno a ritirare la denuncia come aveva fatto Marisa? Sì, la ritirano per paura e forse le istituzioni non sono così convincenti, non hanno le cautele giuste per poter proteggere queste donne in difese. Sole e comunque sfiduciate, perché poi è proprio la paura che emerge. Emerge questa paura, paura perché magari Marisa pensava alla bambina, perché è questo il problema, paura anche della società, perché spesso la società non è che aiuta assolutamente queste donne, anzi, li cataloga e non è assolutamente vero. La violenza purtroppo dentro casa è tanta, è tantissima. Ci fermiamo qui con un ultimo pensiero, ricordo di Marisa, naturalmente vi ringraziamo per la vostra testimonianza così bella, così partecipata e per le tante cose importanti che avete detto. Grazie. Grazie davvero. Adesso facciamo una pausa, ci occupiamo di tutt'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Mi sono andato, sono vestito così perché mi sono andato a scrivere a scuola di sudamericano. Scuola lì? E ballo quello... Ma che cos'è? Cioè, qui ci ballano testissimi, lo voglio fare pure io. Ma che cos'è? Poi sta testa, sai perché si muove così? No. Perché magari lei è andata a ballare, suo marito era a lavorare, lei si è andata a ballare con altre famiglie, ma il marito c'è bella macchina, ne è consumata. Ma poi scusa, in Sicilia vai a ballare il sudamericano, la salsa, i merenghi. Ma dici vero. In Sicilia abbiamo il ballo più bello e più antico del mondo. E qual è? Qual è? Te lo faccio sentire io. Per favore mi avanti la musica, senti qua. Ma che antico! Mamma mia! Ancora! Aspetta, la tarantella! Ma è antico questo ballo! Ma è antico, per favore! Il ballo più moderno e più attuale del mondo. Allora, dimmi una cosa. Tu sai perché si chiama tarantella? No, perché l'hanno battezzata così. Sì, la battezzata... Si chiama tarantella perché forse... Ha origine dalla tarantola. Prende origine dalla tarantola. Che cos'è la tarantola? Quella che ha dato origine alla tarantella. La tarantola è un insetto. La tarantola è un animale microscopico che vive nel sottobosco. Perché nel sottobosco? Perché sopra a casa non c'è. Vive nel sottobosco perché è talmente piccola che questo animale ha paura di essere mangiato. Ho capito. La tarantola esce fuori la notte per andare a cercare qualcosa da mangiare e lei cerca, cerca. La tarantola, tu la sai com'è la tarantola? Com'è fatta la tarantola? Com'è fatta la tarantola? La tarantola è fatta... Guarda, è così. Lei si muove con i suoi tentacoli. Lei ha gli aculei e i tentacoli. E com'è l'aculei? Ora, l'aculeo te lo faccio vedere com'è. Lei si muove e siccome lei non ci vede... Meschina. Non ci sente. Ma completa proprio via. Sì, però lei capta. Ah. Lei capta. Ah, ho capito. Ho capito. No, lei capta. Io ho capito. Le onde elettromagnetiche. E lei cosa fa? Cammina e cerca una preda. A un certo punto si gira e scorge che c'è una preda. Si blocca e piano piano si avvicina. La preda capisce che potrebbe essere preda e si allontana e la tarantola la segue. A un certo punto però la preda si ferma perché è finito il palcoscenico e una vornire. Allora, a quel punto la tarantola che cosa fa? Si ferma, è vicina alla sua preda e alza il suo aculeo. Ah, se così è tarantolo. No, questa è la tarantola. E se non è l'aculeo. La tarantola è un'ermafrodita, cioè dentro di sé c'ha tutti e due i sessi. Dice fortuna insomma. Come fai tu? E poi quando tu ti ritirai a casa gioia, e no, ma di te, stavamo qua tutto così. Dice fortuna. No, è meglio. La tarantola. Allora, cosa fa? Alza il suo aculeo perché lei non è che può mordere. Lei non è che può mangiare. Lei punge. Come fa la tarantola? Alza il suo aculeo e con un movimento rapido fulminio punge la sua vittima così. M'ha preso, Totti. Allora, signori. Ho sentito che mi ha preso. Non ve ne potete rendere conto. Che mi succede? Perché l'occhio umano, l'occhio umano, non vede, non vede questa cosa qua. Ma cosa fa? Ve lo faccio rivedere a rallenti. Guardate cosa succede. All'azza! Mi stava a piacere. La tarantola punge e in quel momento inietta un veleno che per i piccoli esseri è mortale. Per l'uomo non è mortale. Però questo veleno, appena comincia ad entrare in circolo nei vasi sanguigni dell'essere umano, crea prima delle contrazioni. Poi queste contrazioni provano una forma di eccitamento. E la persona che è stata, appunto, comincia a fare così. Allora si è pensato, vuoi vedere? Quello è stato appunto dalla tarantola e balla la tarantella. E questa eccitazione comincia a crescere. Che stai facendo? Può essere che va appunto una tarantola a frocia. Ma per favore, ecco il tesi. Ma la tarantola a litri, vedi? Vabbè, per favore. Vabbè, per favore. I mostri sacri, i mostri sacri. I mostri sacri, dai. Per fare un po' di cultura che cosa si deve fare? Niente, in altra trasmissione. No, te ne devi andare tu. No, andate voi, Tato, tutti e tottino, tutti e tottino. E tappi. Siamo stasera alle 21. Marco, Marco Amato, buon caffè, buona giornata. Oggi chi prenderai di mira? Scommetto spalletti, sono sicuro. Ebbè, sì. Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Grazie. Buongiorno. Allora, abbiamo analizzato la settimana scorsa che durante il transito del segno della Vergine chiaramente sono stati avvantaggiati dei campioni nello spot che appartenevano a questo segno ziracale o al toro. Quindi, chiaramente, compatibilmente gli astri inclinavano per tutta una serie di vittorie. ma il signor spalletti in questo caso è un pesci che è il segno di opposizione alla Vergine e quindi la sconfitta che ha avuto in questo periodo era un po' inclinata dagli astri, non salutata bene in senso positivo, proprio perché partiva proprio dal periodo zodiacale meno congeniale. Cioè, non di meno, questo non significa che andrà male progressivamente. Anzi, i pesci avranno una ripresa decisamente molto interessante. Ricordiamo che il signor spalletti ha preso come incarico l'essere allenatore della nostra nazionale, quindi gli facciamo comunque i migliori auguri e magari prima consultare un astrologo per capire quando è il caso di iniziare o meno una kermess sportiva così impegnativa. Ecco, semplicemente non era il periodo congeniale. Stesso dicasi anche per il signor Mancini, perché l'allenatore uscente invece è sagittario, che è il segno di quadratura alla Vergine e quindi è blocco. Entrambi, su due tavoli, questi nuovi cimenti di questi due grandi allenatori non partivano proprio dalle posizioni più idonee, ideali per il cielo, ma da novembre in poi si è uno e per l'altro le cose andranno decisamente meglio, quindi auguri. Oggi luna e il leone, splendida perché si congiunge il venere, quindi le signore dello giudico flettano un po'. Amore per tutti, soprattutto per i segni di fuoco, ariete, leone, sagittario e anche per quelli d'aria, gemelli bilancio acquario, che giocano un po' tutti con leggerezza, con i sentimenti e l'amore. Gli terra invece subiscono un po' un freno, soprattutto il toro, ma la Vergine prende un po' emotivamente tutta una serie di analisi proprie per potersi meglio relazionare e il Capricò invece è sempre super innamorato. Gli acqua, una scrupione, cancro e pesci subiscono un po' questa luna che sembra oggi un po', parlare poco di sentimento, non convince la leggerezza delle due signore nello giudico, cui i segni d'acqua troveranno più fortuna approfondire dentro se stessi le tematiche affettive. Oggi, 11 settembre, con l'occasione per fare l'augurio al nostro Edoardo Sergi di Antena Sicilia, perché è con lui che vi cito spessissimo i contenuti del mio intervento. Buongiorno a tutti e buoni 16 settembre. Anche noi ci uniamo agli auguri, buon giorno a te, buon caffè. Emanuele, abbiamo un'ultima notizia da guardare? Sì, i Magnifici 80, ti faccio vedere, non sono gli anni 80, ma sono quattro artisti ottantenni che ancora non molano, ma anzi continuano a pubblicare album. Vediamo. Roger Waters, dei ex Pink Floyd, che ha annunciato per il 6 ottobre un remake di Dark Side of the Moon. Poi c'è Albano, 80 anni anche lui, negli ultimi tre anni ha inciso dischi, fatto dure all'estero, insomma ha partecipato a programmi televisivi. Paul McCartney, ha 81 anni, ha vari progetti discografici, chiaramente stiamo parlando di un ex Beatle. E poi Orietta Berti, 80 anni, compiuta a giugno, anche lei è diventata la regina dei tormentoni anche in questi ultimi anni. 11 settembre di molto tempo fa, si era appena superato l'anno zero, quando nel 9 d.C. l'impero romano subì una debacca, la foresta di Teutoburgo, guardate un po', tre legioni vennero annientate sotto il comando di Varo. Altro evento ricorrente nei libri di storia, l'11 settembre, la discesa di Carlo VIII del 1494. Varcate le Alpi, il re giunge ad Asti, dando inizio alle guerre d'Italia. E sempre l'11 settembre, nell'Empire Theater di Johannesburg, era il 1906, si tenne un'assemblea affollatissima della comunità indiana. Gandhi propose per la prima volta alla Satya Gra, una forma di resistenza non violenta che poi caratterizzerà la sua vita. 20 anni dopo, nel 1926, l'anarchico Gino Lucetti tentò di uccidere Mussolini. L'11 settembre, lungo il solito percorso del capo del governo, Lucetti lanciò una bomba a mano, l'ordineo invece di entrare nell'auto, questa qua che è disegnata, finì sugli ignari passanti, poverini. L'11 settembre del 1941 sono cominciati i lavori per la costruzione del Pentagono, vedete proprio l'edificio a forma di Pentagono che è il Ministero della Difesa americana. La progettazione segretissima teneva conto dei misteri e dei segreti del più grande apparato militare del mondo. L'11 settembre del 1961 il WWF fu fondato in Svizzera con la missione di conservare la biodiversità, promuovere la sostenibilità e ridurre inquinamento e sprechi. E poi, sempre l'11 settembre del 1973, sono certo che il mio sacrificio non sarà vano, sono le ultime parole di Salvador Allende, che morì in un colpo di Stato in Cile, colpo di Stato militare guidato dal generale Augusto Pinochet, depose il governo del socialista Allende che, secondo gli storici, si suicidò durante l'assedio al Palazzo Presidenziale. Nel 1997, giorno del settecentesimo anniversario della battaglia di Stirling Bridge, la Scozia votò per ristabilire il proprio Parlamento dopo 290 anni di unione con l'Inghilterra e questa decisione fu definita, fu influenzata dal film Braveheart del 1995, diretto e interpretato come sapete da Mel Gibson, che ha contribuito al risveglio della coscienza nazionale scozzese che ogni tanto qua e là riaffiora e vedremo voi se prima o poi si renderanno indipendenti. Dopo l'11 settembre 2001 il mondo è cambiato, sono passati 22 anni dall'attentato delle Torri Gemelle negli Stati Uniti, compiuti da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, 2.977 le vittime, oltre 6.000 i feriti. Negli anni successivi si sono registrati ulteriori decessi a causa delle conseguenze di questi attacchi. Ecco, vedete qui i due aerei che sono piombati sulle Torri Gemelle e poi li hanno fatti crollare, ma per lasciarci con un po' di leggerezza abbiamo pensato di fare gli auguri a un grande musicista che, eccolo qua, lo vedete, è Moby lui, ha rivoluzionato la musica elettronica, lui era un DJ a New York, faceva questo all'inizio, ha fatto delle cose straordinarie, è nato a New York l'11 settembre, gli facciamo gli auguri al 65, un po' che non lo sentiamo, ci lasciamo con l'energia uno dei suoi più grandi successi, Perfect Life. Noi ci vediamo domani con Buongiorno Sicilia, buona giornata. Noi ci vediamo domani con Buongiorno Sicilia, buona giornata.